Ci vuole il sovranismo nazionale, il sovranismo monetario, il sovranismo alimentare, nessuno si interessa mai della sovranità dell'essere umano per esempio, quindi le libertà di scelta, e non lo dico solo perché ho qui accanto a me Mina Welby, non vengono mai presi in considerazione da questi sovranisti. Questo mostro sempre agitato della globalizzazione ha molto probabilmente molti più aspetti positivi di quanti invece non ce li vogliano dipingere quotidianamente, tra questi c'è anche che col passare del tempo migliora la scienza, migliora la tecnologia, ma soprattutto si abbassano anche i costi di queste cose con delle ripercussioni sicuramente positive per il consumatore finale. Buongiorno, io sono Massimiliano Beretta, lavoro per una ditta sementiera italiana che è Easy Sementi, che opera su tutto il territorio ma opera anche a livello internazionale perché ovviamente esportiamo in tutto il mondo. Chiaramente oggi parliamo di una tecnologia che è assolutamente nuova e rivoluzionaria, che è quella del genome editing. Abbiamo affrontato, come si è detto prima in sala stampa, situazioni del genere anche precedentemente, prima c'è stato l'avvento delle automobili, poi l'avvento dell'informatica, oggi parliamo di genetica e di genomica. Chiaramente da un certo punto di vista comprendo anche il fatto che sia difficile per chi si occupa di burocrazia riuscire a cogliere immediatamente le potenzialità e questo da un certo punto di vista si può comprendere. Ma dall'altra anche mettere dei limiti alla ricerca e al fatto di poter sviluppare qualcosa di nuovo e di innovativo, che sia competitivo con un marchio made in Italy su tutto il territorio del pianeta, voglio dire nazionale ma veramente di tutto il mondo, credo che sia una visione un po' miope. Anche perché c'è una frase di un ricercatore famosissimo che è Ted Koppel che disse che la misura della buona scienza non passa né dalla politica né dai rapporti personali, ma si riesce a fare soltanto immergendo le ipotesi nell'acido della verità. Credo che sia il modo in cui tutti dovremmo fare ricerca e in cui effettivamente riusciremo a ottenere davvero dei risultati. Chiediamo che ci sia dibattito pubblico, chiediamo che la ricerca non si fermi, chiediamo alla comunità scientifica di agire all'unisono sia in Italia che in Europa perché oggi è arrivato il momento di pensare quale sarà il mondo che noi vogliamo fra vent'anni. Io invito sempre i governanti, la politica, ma tutti ad agire in prima persona perché abbiamo una responsabilità, quella di difendere diritti e libertà fondamentali e di fare in modo che tematiche che riguardano la libertà di ricerca scientifica e la possibilità per i cittadini di usufruire dei benefici della ricerca possano avere uno sviluppo che ci proietta.